Che combinava? Si è staccato Pensate! Oh my god Buco Stomps Qui c'è il viline Il viline Il vinile che dopo libereremo Adoro Ciao ragazzi Oggi continuiamo con la Saluto anch'io Ciao ragazzi Oggi continuiamo con le recensioni LOL Oggi apriremo un OMG E... Quale sarà? Ci mancano queste due Indovinate che apriremo oggi Aspetta l'ho presa a caso quindi... Lei? L'onstar L'onstar Oh ho indovinato Questa tra l'altro mi piace molto Ho delle grandi aspettative Quindi la apriamo Ma prima sigla Negli scorsi video abbiamo aperto Kitty K E... Pop BB E altre LOL Airflip Non li hai visti? Ti do un consiglio Iscriviti al canale E lascia un bel like Così non ti pare di nessun video Meno parole? Apri Vai Apri Penso dall'altra parte Apri da qui perché c'è scritto Apri qui Stonks Dove sta scritto apri qui? Sì vedi qua c'è scritto una scritta Te portano la vedi? Ma è in... In una lingua Ok Ma è in lingua lolinese Esatto Ma c'è scritto apri qui Apri qui Bello io avevo tolto lo scoccio dall'altra parte Era comodissimo ma invece a te piace soffrire Esatto Spiliamo Ok questa è rosa Qui c'è il viline Il vi... Il viline Il vinile Il vinile Che dopo libereremo Esatto Adesso coggiamolo qui E adesso Apriamo E... Pum Tadà Lone Star Ok Vi abbiamo già spiegato che queste LOL OMG Remix Sono abbinate Hanno una best friend Quelle due laddietro erano migliore amiche Le altre due sono migliore amiche E sì E vince anche da qui Che hai combinato? Si è staccato Non si apriva Continuiamo Pronti? Oddio che bella Eh ho detto che questa era carina Oddio che bella È carina proprio Guarda quanto è bella Che bei capelli Questi tra l'altro liscio Soprattutto questo completino Tutto a scacchettini Liberiamola Il suo libricino ovviamente Qui c'è una bustina Sei la mia bambina Vichilina Sì Le mie topina toposa Ciao Fate molto attenzione Questo laccetto Un battagliato Perché? È il laccio del suo cappello Che carina Vediamo i vestiti? Sì Da quale vuoi cominciare? Da questo Vai Perché è bella Troviamo un giacchettino Oddio che bello Con le frangette Così E non solo Guardate è tutto perlato Ma che carino Questo è bello Mamma mia È una delle cose più carine Di vestiti di questa serie Delle OMG Anche se il più bello Finora è Il maglioncino Di Kitty K Che le ha portato a pop baby Secondo me Poi non so secondo te Anche Andiamo avanti In questa bustina Lilla Troviamo dei jeans Lilla Lilla Come la nostra amica Lilla Ciao Lilla Seguitela Guardate che belli Sono tipo No ma che carini Jeansetti così Con questi decorini Tutti quanti glitterati Esatto Poi la cintura con il coricino Un top Veramente carina Passiamo alle scatolette Apriamo questa Io credevo di trovarci chissà che cosa È piccolissima Esatto Non ha mucchio L'hanno stretto forte Che ci sono gli occhiali E basta No no Aspetta Attenzione a queste cartine malefiche Eh 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 volevi Apritele Stiratele fino all'ultima piegolina Guardate Oh my god Buco Facciamo una povertina clickbait E mettiamo Ho trovato un buco No no dai Allora Torniamo normali E umili Allora Questi occhiali così viola Che carini Belli Questi rilievi Come li possiamo chiamare Esatto E degli orecchini a mezza stella Stel Stel Dai passiamo a questa Vai Che carina Che bella Lilla ritorna Esatto Poi ci sono le scarpe Ecco Molto Guarda che hanno dietro Vedi quella stellina Sai che cos'è Che cos'è Quello Falla vedere Gira Quello sperone Fermo Questo è lo sperone da cowboy Serve È una rotellina Appuntita Che serve Poverini A dare i colpi al cavallo Sulla pancia Quando devi spronarlo Al galoppo Il cavallo Se fa male E corre di più Ti credo Perché vorrebbe scappare Da quello che lo sta cavalcando Probabilmente Ma non è finita qui Abbiamo questa bustina Questa volta di carta Con dentro un Non lo so L'abbiamo trovata Infatti sotto Dovrebbe essere forse Lo strumento Perché chi ti chiedeva Il microfono Che bella Uuuu Una chitarra Che bella Così tutta nera Molto carina Con questo laccetto così Glitter Oddio che bella Poi tutta decorata Con i cuoricidi Adoro E c'è un'altra cosa Ah vero questa Che cos'è Visto che il suo outfit Scusate Il suo outfit Ormai è completo Quest'altra bustina Contiene l'outfit Per la sua BFF Esatto Ah perché sono curiosa Best friend forever Ok 3,2,1 Sembra una bandana Oddio che bello Secondo me Puoi rispondere Ci starebbe benissimo Però diciamo Troppo bianco e nero Ok Magari se lo fermi un attimo Riesco anche a inquadrarlo a fuoco Confermo Sembra una bandana Disegni cashmere Ed è in cotone Infatti andrebbe un po' stirato Poi lo stirerò Con la piastra D'accordo La vestirei Visto che proprio la stella È in mutande Vestita E non solo l'abbiamo vestita Abbiamo anche fatto un video con lei su tiktok Quindi andate a seguirci pure lì Ci chiamamo Babu It Esatto Se volete vedere come si è vestita da sola Correte su tiktok A vederci Ti ting Mancavano gli orecchini Io li ho messi La chitarra è imbracciata E Musica Pronta Ok Devi mettere Esatto Devi mettere il disco La linguetta l'ho tolta Hai tolto la linguettina Metti il suo disco Vediamo Ok E con questo Finiamo questo unboxing con un bel saluto Ci vediamo ancora qui Ne abbiamo da aprire un'altra Ossia la sua BFF BFF Quindi continuate a seguirci Per vedere come sarà la prossima Un bacio a tutti quanti Ciao